Seduta comune delle Camere a Roma, 1.009 grandi elettori dalle 15 di oggi al voto per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica, tra loro 24 abruzzesi. Nell'ordinamento italiano il Presidente della Repubblica e il Capo dello Stato, garante della Costituzione e dell'Unità Nazionale, incarica il Premier di formare un governo, promulga le leggi approvate dal Parlamento, può sciogliere le Camere e indire il referendum ed emanare decreti. È Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, nomina un terzo della Corte Costituzionale, ha il comando delle Forze Armate, può dichiarare guerra o concedere la grazia a un condannato. A sceglierlo sono i parlamentari elettivi, i senatori a vita e tre delegati per ogni regione, fatta eccezione per la Valle d'Aosta, che ha un solo delegato. Per eleggere il Capo dello Stato è inizialmente necessaria la maggioranza qualificata, ovvero almeno due terzi degli elettori. Dalla quarta votazione in poi, invece, sarà sufficiente la maggioranza assoluta. 24 in totale, come detto, gli elettori abruzzesi. I tre delegati della nostra regione sono il governatore Marco Marsiglio, di Fratelli d'Italia, la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi, e il forzista e presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Dei 21 parlamentari abruzzesi, 7 sono i senatori e 21 i deputati. Per il PD ci sono la deputata Stefania Pezzopane e il senatore Luciano D'Alfonso, per il Movimento 5 Stelle i deputati Daniele Delgrosso, Gianluca Vacca, Daniela Torto, Valentina Corneli e Carmela Grippa, e i senatori Gianluca Castaldi, Gabriella Di Girolamo e Primo Di Nicola. Un abruzzese anche tra le schiere di Italia Viva e il deputato Camillo D'Alessandro. Per la Lega, invece, ci sono i deputati Antonio Zennaro, Giuseppe Bellachioma e Luigi Deramo, e il senatore Alberto Bagnai. Per Forza Italia i deputati Antonio Martino e Gianfranco Rotondi e il senatore Nazario Pagano. Mentre il senatore Gaetano Quagliarello fa riferimento a Idea Cambiamo di Toti, nel polo di Coraggio Italia, insieme al deputato Fabio Berardini. Tra gli elettori, 112 parlamentari del gruppo misto saranno loro probabilmente ad essere l'ago della bilancia, l'unico abruzzese del gruppo misto e il deputato ex 5 Stelle Andrea Colletti. Il mandato del Presidente della Repubblica durerà per i prossimi sette anni. Diversi i nomi circolati in questi giorni rispetto a chi potrebbe salire al Quirinale. I papabili vanno dal Premier Mario Draghi al capo dello Stato uscente Sergio Mattarella. Se questo venisse rieletto, sarebbe il secondo caso di riconferma nella storia della Repubblica, dopo quello di Giorgio Napolitano. Tra i nominati anche l'intramontabile per Ferdinando Casini è la vezzanese Gianni Letta, zio del segretario del PD Enrico e fedelissimo di Berlusconi. Potrebbe essere il primo abruzzese in assoluto a diventare capo dello Stato, seppur alla soglia degli 87 anni d'età. Questa però potrebbe essere la prima volta anche per una donna al Quirinale. Tra quelle proposte la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e la diplomatica Elisabetta Belloni, attualmente alla guida dei servizi segreti. Quest'ultima non solo potrebbe essere la prima donna capo dello Stato e il primo Presidente della Repubblica a provenire dall'intelligence, ma, secondo indiscrezioni, potrebbe diventare la prima premier donna italiana in caso in cui fosse Draghi a salire al Quirinale.